Avete 17 voti? Diciamo che è delegato perché se no non avrà un sacco di pressione. L'epidocco purtroppo era paventato diverse volte ma finalmente ci siamo riusciti perché non si poteva più continuare in questa volta. Ora cosa farete? Adesso bisognerà portare qui in questo film, però adesso sono solo formati a casa, specialmente Brindisi non ha più una sindaca, poi ci saranno tutte le pratiche per annunciare al commissario. Finalmente direi che questa imbarazzante consigliatura è finita e la riflessione secondo me che la gente deve iniziare a fare è su come ci si approccia seriamente allo studio di chi si candida per governare una città. Non si può più avere accostumazione nel capire chi si candida. Questa coalizione, come anche l'Alfa del resto, erano coalizioni fatte solo e esclusivamente per accantare voti. La gente deve iniziare a capire come e quanto è importante il proprio voto. E oggi, con oggi, si chiuderà. Speriamo per l'ultima volta una triste pagina per questa città. Probabilmente la peggiore consigliatura.